Donato! 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 Dicono che nel casino non si capisce niente! Donato! 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 Donato dove sono i soldi? Donato! Donato dove sono i... 3 euro! 3 euro! 3, 1, 1, 2, 3! No! Voi dite che uno poi non dà i nu! E pensare che Conte aveva detto cosa aveva detto Donato? Fammelo risentire! Fammelo risentire! Oh! Donato! Donato! Il bonus monopattino! Il bonus monopattino Donato! Cosa si sono inventati? Il bonus monopattino! Non c'è niente! Eh! Cosa abbiamo fatto in questi due mesi e mezzo? Niente! Dov'è il decreto? Lei ha visto il decreto? Il decreto dov'è? Il decreto di giugno che era di maggio che era di aprile pensato a marzo per la crisi di febbraio che era iniziata a gennaio che al mercato mio padre comprò! Santo cielo! Una fila strocca! Sono parole! Adesso 21, 33 e 52 secondi non c'è ancora! Bellanova! 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 Non voglio più sentire il gerundio! No, stiamo facendo! No, stiamo realizzando! Bellanova! A cosa serve? Zero, 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 poi torno da voi e vengo da voi! Donato, dammi tridio! Dov'è? Tridico! Vergognati! Tridico, sapete cosa è? Ha detto, ha avuto il coraggio di dire Donato! Donato, gli assistenti civici! Tridico! 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 Diciamo anche quello, oggi le dico tutte, oggi non mi tacciono, tridico! Benetton, benetton, sapete cosa è? L'imbuto? Lo vedi? L'imbuto non si può riempire, azzolina! L'imbuto non si può riempire, azzolina! Come fai? Come puo? Donato! Donato! La scatola di Plexiglas dove inscatolare i ragazzi a scuola come dei cetrioli sottaceto! Boccia! Arcuri! Arcuri! Sarò pazzo io? Fammelo dire qua! Sono pazzo? Io sono io pazzo? Sono pazzo io?